Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti a questo nuovo video, io sono Frafusco e ci siamo sul video della Redemption Quest'oggi andiamo, continuiamo con la storia Eh, sì, ogni tanto pubblicherò un video, l'ho già pubblicato però veramente iniziamo al video della Redemption Episodio per episodio Saranno un pochino lunghi, verranno di 34, 35 minuti Ha fatto una gara morua Questa è un pochino di carne e un rabbit, per quanto? 10-12 persone? Cosa di una gara moruta? No, ha buccato un pochino lunghi E' un pochino lunghi E' un pochino lunghi E' un pochino lunghi Un pochino lunghi E' un pochino lunghi O' meccano app instagram E' cari oi, oi, guardiamo lui Ah beh, guardare Eccoらい pvero, magari non il buon andiamo a dare un altro bagno ma non sembrava di più non mi si può fare find some higher ground been a wild few days alright that ride north from Blackwater getting stuck in the storm bringing John back in you've had a lot put on you I wish I could have done more I didn't mean it like that just a lot to think back on I still don't really know what happened on that boat me neither Well Javier told me a bit, but it sure weren't good. See some of the ground uncovered here, come on, let's try this way, keep your eyes peeled for movement, the wind's died down too, that's good, no wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move, now shh, stay quiet, hey, stop here a second, I see something, oh, watch it, there's deer been here, recently, how can you tell, I don't know what, we'll track them on foot, you're gonna need the bow, don't leave it on your horse, I'm gonna scare everything around. Okay, let's go over here, let's go over here. Hai visto i tratti? Non credo. Probabilmente non. Focus. È in giù, ma una volta che hai lato, hai potuto. È in giù. È in giù. È in giù. ho detto, lontano e caldo, Arthur. Sssh, lontano. Voi li? Sperto, scusate il bambino, Arthur. Sperto per la sua head, se vedi. Sperto, beh, non, se tu. Non, 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 non Grazie. 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 Ok, you pick up one, I'll get the other. You sure your hand's ok? Nah, it'll be fine once I get it on my shoulder. Ok, I'll go grab the other one. not bad boy ok boy ... 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 andiamo a andare avanti con l'attore non mi piace, magari lo fesce da orto non mi piace come ci ha delокale. We've seen enough of that. Cendere in how things were, looking a couple of days back. But maybe our luck is finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still awake, and you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, C'è questo? Abbiamo ancora un bel prezzo sulle nostre città. Questo è un bel paese. Abbiamo trovato un paese per l'Alo. Dutton Jose e hanno un progetto. Vedete come Pierson ha avuto una bottiglia nella sua handa da cui abbiamo freddo a Blackwater? Diamo il camp cook 5 minuti per prendere i essenziali e andare. E non c'è un po' di carne. C'è meglio che abbiamo freddo di più di una. Molto di pesce per cuore. E quella ragazza del rancho, anche. Ma... Non è sicuro che lei sarà beccato molto. Ha un po' di l'occhiata in l'occhiata. Tu anche. Ha perduto il suo figlio, il suo casa, tutto quello che aveva. Quindi cosa faremo con lui? Una volta che arriviamo fuori e torniamo a tornare a noi, vediamo. Potremmo avere una famiglia in qualche modo. Quindi è stato l'Odriscoll che hai avuto l'occhiata? Si. L'ultima cosa che abbiamo aspettato. C'è quello che hai avuto l'occhiata? Non ti ho affrontato con loro? Penso che non abbiamo avuto l'occhiata in questi sei mesi. Penso che perché hanno avuto l'occhiata in questo modo. Non. Ho ho sentito molto parlato di loro. Beh... Abbiamo avuto l'occhiata con loro per anni. Molto gamba. Pagliosi di figli. Il loro leader, Combe, e le ducche sono davanti. Non in una buona forma. Un'occhiata giù. Guardate. Guardate. Guardate se possiamo trovare un altro modo. Il loro deve essere molto comune. Voi rimasciare. Oggi rimasciare. Per questo è un'occhio. Per questo è il loro animale. È un'occhio. Hai visto la sua vita? Sì, non è che chi sa doveva, lo so Se ci vuoi dare una mossa nel correre, magari Non abbiamo mai parlato molto, tu e me C'è quanto sei con noi ora? 5-6 mesi? C'è qualcosa di così Ma non ho aspettato questo Cosa? Qualcuno di questo La strada di acqua, essere qui Ah, più o più o più, un lavoro va a farlo La natura della vita C'è proprio pensato che tu avessi avvicinato per ora Tu vuoi che mi avvicinato? No, non è nulla C'è solo C'è stato un po' di più C'è stato un po' di più C'è stato un po' di più C'è stato fatto C'è stato fatto C'è sempre chiede se qualcuno te va a uccidere nel dormire C'è stato un po' di più 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 Espesso rimane erli Coloi no me faster than a bull won't take nobody but him easy i'm gonna hitch time over here brought some food back boys come on get these over to pierce yeah thank you i'm gonna show you a little there's a lot of practice well what a surprise find a camp rat loitering around greet an old friend i feel like we have a most to avoid he loves me really it's a sad way no it isn't now shoot get lost well see you got on just fine charles is a wonder have a drink boys year jesus what is that navy rum sir it's the only thing the only thing keeps you saying it does seems to have done a treat on you mind helping me with the skinning mr morgan morgan see you both later if you look make it oh oh i know know why i know i 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 okay you know i got your back i learned a long time ago that you hit colmo driscoll wait for him and people you love will die this feud between you and him needs to be put to rest one way or another it will be some things i can forgive others i can forget what what he did to hannabelle i can't do neither you killed his brother dutch yes i did i hope the bastards will be reunited soon enough that's how this will end damn right boss see that smoke let's cut up here and take a look they said it was near the lake so we must be close they said it was near the lake so we must be close hold up here arthur all right gentlemen this is it are we goddamn ready ready dutch good now mr morgan and i we're gonna head up here a little see if we can't get a sense of the layout of the camp mr williamson mr bell you two take up a hidden position just outside the camp mr summers mr escuela you two hold position here let's go let's go there they are that's definitely their home home i think so yeah that's him a hit 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 we must be going to run Ok, l'hanno. best to get some of them out of there and much less fun to rob him and his score if he never finds out about it come on let's get down there don't forget to grab that rifle from your horse you boys be ready to pick them off from up there sure thing good come on let's go we'll circle around the far side and go down that way same as micah and bill like you said revenge is a luxury we can't afford yeah just wasn't sure you agreed with me arthur arthur have you completely lost faith in me our needs right now are supplies equipment and a way out of here everything else including coal can wait okay there's enough of those bastards down there to deal with as it is now come on so Grazie a tutti. 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 Ciao. 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 Ciao.